Buongiorno e benvenuti, qua è una chiesa, è una chiesa di qua abbiamo fatto, la signora ce l'ha aperto e abbiamo fatto dei mercati per vendere le cose. E a te piace? Sì è bella perché ci sono tanti laboratori e poi perché ci sono tanti bambini e ti diverti molto? Sì. A Patti vedo tante cose belle e non le presuppre, le abbiamo fatte per prendere tanti soldi e così siamo ricchi e io ora mi compro un regalo per la mamma, non posso dirvelo. Qui ci sono i libri pronti per il baratto, uno viene qua, uno di libri vecchi e li scambi con quelli che gli piacciono all'interno di queste cassette. E anche strucchi ci sono, è una bella festa, bellissima strucchina! E oggi ci sono tanti signori e alle due vennerà tanta gente e io ne hanno chiamato il sindaco. Io vorrei dire che questa festa che ci tiene tutti gli anni è molto bella perché incoraggia i bambini a fare dei laboratori molto belli anche agli adulti, tipo quello di Falegnameria, che poi in inverno potrebbero mettere le casette per uccellini e metterci il grano e così potremmo aiutare anche un po' gli animali con tutti i laboratori. e quindi Io per l'anno prossimo Vorrei tanto che magari ci fosse un animatore per i bambini Che insegna a giocare anche con i vecchi giochi Tipo i tappi Io ce ne ho una scatola a casa Sono molto belle Quindi magari questo animatore potrebbe riportare i bambini A giocare con le riciclate Grazie Grazie